Bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it Continua il corso introduttivo ad After Effects Oggi parliamo dei livelli, che cosa sono e perché si differenziano dalle tracce presenti in Adobe Premiere www.fabioambrosi.it, sito dove troverete l'indice con gli argomenti di questo corso Trovate anche il corso di Adobe Premiere, trovate anche tante altre cose Quindi fateci una capatina, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere i prossimi tutorial E cercatemi su Facebook, la pagina da cliccare è Fabio Ambrosi Basta così, detto ciò, cominciamo a parlare dei livelli Quando abbiamo parlato di Premiere, abbiamo visto che Premiere lavora per tracce Le tracce possono essere tracce video, sopra, tracce audio, sotto E c'è una distinzione ben precisa tra tracce video e tracce audio In After Effects questa distinzione non c'è Un livello è un livello, punto Un livello può essere una fotografia, può essere una grafica, può essere un titolo Può essere un effetto, può essere una luce, può essere un audio Perché in After Effects possiamo introdurre anche elementi audio per creare sync particolari, giochi particolari Ma la cosa importante è che un livello è un livello Non esiste un livello audio, un livello video Ok? Questa è la prima importante notizia Dopo aver creato una composizione, come abbiamo fatto noi in questo caso Abbiamo creato la prima composizione la volta scorsa Per poter importare il materiale nel nostro progetto After Effects Basta fare doppio clic nello spazio del pannello progetto Olè! Qui possiamo navigare nel nostro computer, scegliere uno o più elementi da importare Cliccare su Importa e gli elementi finiscono dentro al nostro pannello progetto Anche in After Effects ci sono i tasti rapidi da tastiera Anzi, sono forse ancora più importanti che in Premiere Per importare basta premere Ctrl-I e abbiamo l'effetto identico che abbiamo avuto prima Con il doppio clic nel pannello progetto C'è sempre la possibilità di importare il materiale cliccando su File E poi ancora Importa e scegliere File Il procedimento è esattamente lo stesso Qualunque sia stata la vostra scelta Dopo aver importato il vostro materiale Potete selezionare i vari elementi da importare nel nostra composizione Trascinare gli elementi nella nostra timeline della composizione Vedete che gli elementi vengono inseriti sotto forma di livelli Ok? È importante comprendere questa cosa Così come in Premiere Anche in After Effects i livelli hanno una gerarchia ben precisa Il livello più in basso è quello che viene visualizzato per ultimo I livelli superiori coprono i livelli inferiori Ad esempio, abbiamo attivato questo livello inferiore Che è il livello del logo del mio canale YouTube Posso accendere con questo bottoncino qui Con il simbolo dell'occhio Il canale subito dopo Che è questo Che è il logo di After Effects Che come vedete va a coprire il logo del mio canale YouTube Accendo anche l'ultimo canale Quello soprattutto Ed è il logo di Premiere Che va a coprire il logo di After Effects Che a sua volta va a coprire il logo del mio canale YouTube La trasparenza è un concetto importantissimo da comprendere in After Effects Perché giocando con la trasparenza Noi animeremo Creeremo titoli animati Creeremo effetti E tante altre cose insieme Un'altra differenza importante rispetto alla timeline di Adobe Premiere Che mentre in Premiere tutto è pensato per poter essere manipolato con facilità Quindi possiamo prendere clip Trascinarle Spostarle Trimmarle Tagliarle Fare quello che vogliamo In After Effects Diciamo che Il lavoro di tagliare Editare È un pochettino più razionalizzato Ho visto in passato persone montare delle clip In After Effects Ma personalmente la considero una follia After Effects è un software che serve per Creare grafiche Per creare effetti Non per montare Quando dovete montare utilizzate ovviamente Premiere Che ha una gestione differente della timeline In After Effects è possibile ovviamente Trimmare una clip Spostarla Vedete come sto facendo io in questo caso Però sostanzialmente vedete che abbiamo meno gioco Rispetto a quanto abbiamo in Adobe Premiere Perché lo scopo dei livelli è creare delle composizioni È creare degli effetti Non dobbiamo montare nulla Poi chiaramente capita anche di dover assemblare delle clip in After Effects Per creare però degli effetti Degli effetti particolari Quindi la cosa importante da ricordare Quando lavoriamo in After Effects È che i livelli sono intanto agnostici Possono essere qualunque cosa Può essere un livello audio, video, una fotografia o qualunque cosa Non c'è distinzione tra video e audio Altra differenza rispetto a Premiere Che chiaramente si modificano Si tagliano, si spostano In maniera leggermente differente Lo vedremo tra qualche tutorial Altra differenza è che Mentre in Adobe Premiere Quando vogliamo andare in Play Ci posizioniamo con la timeline Sul punto in cui vogliamo andare in Play E premiamo la barra spaziatrice E il video parte in automatico Ecco in After Effects Specie con progetti più complessi Quando premiamo la barra spaziatrice Non è detto che il video venga messo in Play automaticamente Facciamo un esempio pratico Eccoci qui Questo è un progetto per un sottopancia Che feci tempo fa Ok Come vi dicevo Se io adesso premo la barra spaziatrice Il video Prima di essere riprodotto Avrà bisogno di essere renderizzato Cosa vuol dire? Guardate Premo la barra spaziatrice Per mandare in Play Vedete che After Effects sta calcolando Quelle che sono le animazioni Quelli che sono gli effetti Le cose che io ho inserito All'interno di questa animazione Dove è verde vuol dire Che il video L'animazione La composizione Può essere riprodotta in tempo reale Dove non è verde Vuol dire che c'è bisogno Di fare dei calcoli Una volta che Il calcolo Il rendering è stato fatto La timeline si colora di verde E io a questo punto Posso mandare in Play Il mio video Così come faccio in Adobe Premiere Però Specie quando lavoriamo Con effetti Un pochettino più complicati After Effects Quando mandiamo in Play Prima renderizza Le immagini Le prepara E poi le manda In Play Mostrandoci quella Che è l'anteprima Del nostro lavoro Quindi Altra differenza importante Rispetto a Premiere Sono i tempi Di Play Per il resto I livelli Sono il cuore Nel nostro progetto After Effects Nell'esempio che stiamo vedendo Questo livello Non è una clip video Non è una clip audio Non è un titolo Non è nulla È una composizione Perché noi possiamo Inserire nella nostra timeline Delle composizioni Che al loro interno Hanno Altri livelli E altre composizioni Che al loro interno Ancora hanno Altri livelli E altre composizioni E via discorrendo Fino ad arrivare Al titolo vero e proprio Che è questo qui Per esempio Dove ci sono solo due elementi Del titolo Questo per dirvi Ancora una volta Ricordando Quello che abbiamo detto Nella scorsa lezione Che le composizioni In After Effects Sono sì simili Alle timeline di Premiere Ma sono qualcosina di più Nel prossimo video tutorial Entreremo ancora di più Nel vivo Finalmente direte voi Impareremo come scalare Un livello Impareremo come muovere Un livello Impareremo anche come ruotare Un livello E impareremo anche come Controllarne l'opacità L'opacità è importantissima Vi dicevo la trasparenza È fondamentale Quando lavoriamo In After Effects Quindi tutto questo Nel prossimo video tutorial Per il momento vi ringrazio www.fabioambrosi.it Sito dove troverete L'articolo di questa lezione Oltre all'indice Con gli argomenti Di questo corso E il corso di Adobe Premiere Iscrivetevi a questo canale YouTube Per non perdere I prossimi video tutorial E cercatemi su Facebook La pagina da cliccare È Fabio Ambrosi Mettete un like E restiamo in contatto Ciao Grazie ancora Al prossimo video tutorial